Mi trovo alla stazione ferroviaria di Taranto, ma cos'è una stazione o è un'area, un deserto tristemente desolato e assolato, abbandonato a se stesso? Guardate un po', erbaccia, chima, ambiente amio, dove è finita? Nessuno si degna di pulire un po' il marciapiede, di tagliare un po' il marciapiede, guardate qui un altro porcine, di tutto di più, sacchetti e poi la cosa più grave, il bar, il bar che ci sono da quasi due anni, la stazione di Taranto non ha un bar, ma l'amministrazione comunale di Taranto, com'è possibile che non si è mai mossa per far sì che potesse ripristinarsi l'attività di bar, un minimo refrigerio per chi arriva a Taranto, l'amministrazione Melucci Busillo, non dico che dovevano andare loro certamente ad aprire il bar, ma stimolare le attività commerciali, far sì che una stazione abbia un bar, è una vergogna, guardate qui, non c'è un bar, non c'è nulla, tu scendi dal treno e non puoi prendere neanche un bicchiere d'acqua, una bevanda e voi parlate di turismo, 3 milioni e mezzo di Euro buttati per il 6GP e la stazione è ridotta a un cesso, meditate cittadini il 12 giugno, meditate!